Benvenuti su ricette della nonna. Oggi prepariamo lo sformato di asparagi bianchi con rucola. Ingredienti sono asparagi bianchi lessati che ho tagliato e ho diviso in gambi tagliati a pezzettini piccoli e punte lasciate intere. Rucola lavata e tagliata a pezzettini, grana grattugiato, uova, olio extravergine di oliva, sale e pepe verde. Rompiamo le uova in una terrina, le condiamo con sale, pepe verde e olio extravergine di oliva e poi le sbattiamo. Uniamo i gambi di asparagi tagliati a pezzettini, la rucola e un po' di parmigiano. Quindi mescoliamo. Ho foderato una piccola pirofila rettangolare con carta da forno e adesso ci verso il composto a base di uova. Lo sistemiamo bene all'interno della carta in modo che vada lungo tutti i bordi e poi disponiamo le punte di asparagi. Cerchiamo di metterle tutte una vicina all'altra. Cerchiamo anche di bagnarle bene in modo che rimangano immerse nell'uovo e poi spolverizziamo con il formaggio grattugiato. Dopo aver tagliato la carta da forno in eccesso con le forbici siamo pronti per infornare a 180 gradi. Dopo 25 minuti di cottura a 180 gradi lo sformato è pronto. Ora lo trasferiamo su un piatto da portata e lo serviamo in tavola. Lo serviamo tagliato a fette e ce lo gustiamo. Buon appetito e alla prossima ricetta su ricette della nonna con Anna Rosa.